Se andiamo a vedere quella che è la classifica dei più prolifici attaccanti della nazionale italiana troviamo nomi a tutti i familiari come Riva, Meazza, Pieri, Del Piero, Inzaghi e tra questi troviamo anche il nome di Adolfo Balonceri. Chi? La maggior parte di voi avrà sicuramente posto questa domanda e in questo video, beh, affronteremo proprio questo argomento e risponderemo proprio a questa domanda, a questo chi? Chi era effettivamente Adolfo Balonceri? Perché la leggenda di un bomber come lui non venga mai dimenticata. Balon, ah Balon, con questa frase super nostalgica gli anziani alessandrini di qualche decennio fa che avevano avuto la fortuna di vederlo giocare ricordavano le gesta del grande Adolfo Balonceri il capostipite della rinomata scuola alessandrina il pioniere del ruolo del regista nel gioco del calcio. Nacque nell'estate del 1897 a Castelceriolo un piccolo sobborgo nei pressi di Alessandria e nel 1907, come tanti altri, si trasferì con la famiglia in Argentina in cerca di fortuna. E fu proprio qui, nella patria di quelli che saranno in futuro due dei del gioco del calcio come Messi e Maradona che il giovane Adolfo iniziò a tirare i primi calci ad un pallone precisamente ad Arecchito, città della provincia di Santa Fe. In terza elementare aveva avuto un maestro che aveva iniziato a far giocare durante l'intervallo coi bambini, procurandosi, non in maniera semplice ovviamente una palla abbastanza simile a quella da football ed ogni giovedì gli faceva un corso pratico e teorico di calcistica anche se argentina, così almeno la chiamava lui ben diversa da quella europea. Nel 1912 la famiglia Balonceri fece il ritorno nella terra d'origine Pare che la madre sentisse troppa nostalgia per l'Italia e nonostante i genitori non fossero d'accordo con la sua nuova passione calcistica esportò nel bel paese quello che era il pensiero del calcio argentino nel circuito calcistico alessandrino. Nell'antica piazza d'Armi a Porto Marengo ora nota come Piazza Genova una traballante staccionata di tavoli in legno delimitava il recinto entro il quale si dispiegava il rettangolo di gioco e qui si radunavano giovani di ogni età, grado e condizione per partecipare ad una disputa quotidiana affascinati dal crescente fascino del nuovo sport. E un distinto signore, l'inglese Smith, si mescolava tra loro dispensando consigli e suggerimenti in qualità di esemplare educatore ed eccellente istruttore e quando il giovane baloncieri si presentò timidamente a Smith a 14 anni esile e mingerlino quest'ultimo lo scrutò attentamente e lo mise alla prova. Dopo aver ottenuto l'approvazione il giovane cominciò a dimostrare il suo talento diventando presto un protagonista fra coloro che gli si paravano davanti. Soddisfatto della sua prova, Smith gli chiese «Ma da dove vieni, ragazzo? Dall'Argentina, signore!» E da quel momento si guadagnò il soprannome dell'americano. Come scrisse di lui anche il giornalista Alberto Fasano quando baloncieri cominciò a farsi notare era un giovane smilzo con una faccia da cinese l'occhio furbo, un sorriso a mezzo labbro. Le doti che fecero subito stacco furono l'intelligenza tattica l'intuizione personale e la prontezza di riflessi. L'esordio con l'Alessandria in prima categoria l'odierna Serie A avvenne il 6 dicembre 1914 ad appena 17 anni. Fu mandato in campo per sostituire l'indisponibile della casa contro l'Andrea Doria partita terminata sul 2-2 e secondo il giornale Osservatore si impressionò un po' troppo. In quella stagione giocò un altro incontro Alessandria-Milan 0-0 del 28 marzo del 1915. Era la partita decisiva per entrare nel girone finale e i grigi mancarono all'obiettivo. Si ritrovò infatti titolare in sostituzione di Bosio il quale proveniente da Torino sbagliò la coincidenza dei treni ritrovandosi ad Asti e secondo la Lega Liberale, un giornale dell'epoca la sua prova però fu insufficiente forse ancora troppo giovane e acerbo per quei ritmi e quei livelli. Nel frattempo scoppiò la prima guerra mondiale e Balonceri giocò tre partite nella Coppa Brezzi ed escrisse così quel periodo. Vi fu la guerra con i suoi orrori i suoi lutti e le sue miserie molti giovani erano stati chiamati alle armi parecchi non fecero più ritorno alle loro case i reduci induriti dalle fatiche dalle privazioni, dai disagi sentirono prepotente il bisogno di ritemprare fisico e nerdi dedicandosi ad uno svago libero e salutare come il calcio quel ritorno di fiamma segnò la rigogliosa rinascita del calcio alessandrino. Queste furono le parole di Balonceri qualche anno dopo. Nell'immediato dopoguerra avvenne la definitiva consacrazione di Balon sia in maglia grigia che in nazionale colui che meglio aveva assimilato gli insegnamenti dell'inglese Smith contribuì ad alzare il livello generale dell'Alessandria grazie anche all'apporto di gente come Carcano Ticozzelli e tanti altri. Cominciò da Ala e poi divenne mezzala nell'imperante Metodo che prevedeva i due interni parte integranti dell'attacco col compito di tessere il gioco e di andare direttamente a concludere. Balonceri era una macchina da calcio di impressionante regolarità intelligenza tattica prontezza di riflessi senso dell'organizzazione del gioco fantasia lancio preciso tiro potente e secco erano tutte qualità che galeggiavano alla pare sulla superficie di un'adesione totale alle ragioni della squadra e in breve tempo diventò l'idolo del campo degli orti il trascinatore in cui i tifosi invocavano Balon all'anello all'anello per incoraggiare i suoi proverbiali tiri all'incrocio dei pali fu celebre infatti un suo gol al Bologna con addirittura i complimenti finali del giovane Angelo Schiavio nell'estate alle 25 il presidente del Torino Marone Cinzano gli fece una corte serrata la trattativa andò in porto con l'enorme cifra di 70.000 lire a favore dell'Alessandria Balonceri e l'Alessandria si separarono quando egli aveva solamente 28 anni dopo 11 anni insieme e le ragioni, come egli stesso ricorderà erano molte e nessuna in particolare dopo tanti anni di buone prestazioni era normale che una sua giornata storta portasse a critiche non troppo gentili lo si riteneva spesso il principale responsabile il capro espiatorio dell'intero collettivo in quanto uomo simbolo della squadra sentendosi incapace di affrontare da solo il peso e la responsabilità attribuitagli senza l'aiuto di tutti decise di cambiare situazione scatenando una reazione molto negativa nella piazza ricevette insulti e disprezzo passando da essere amato a diventare l'uomo più odiato fu infatti etichettato come vecchio ronzino a solo 28 anni ma tutti coloro che pensavano che fosse sul viale del tramonto dovettero ricredersi lui stesso in seguito ha raccontato l'ammirazione per le mie prudezze la mia tenacia ebbe ragione sul dispetto originato dal mio trasferimento dal 1920 al 1925 avevo all'attivo 22 presenze in maglia azzurra e dopo il mio passaggio al Torino dal 25 al 30 ne collezionai ancora 25 quindi avevo una carriera ancora davanti ed effettivamente gli anni nel Torino furono ricchi di vittorie e lo furono anche in maglia azzurra con l'Oriundo Libonatti e lo Spezzino Rossetti formò un trio formidabile e soprattutto prolifico in zona goal che lo portarono ovviamente ad alzare sempre di più la sua media realizzativa e nazionale finché appunto non riusciamo adesso in questo momento a vederlo nella classifica dei top 10 calciatori che hanno segnato di più nella storia dell'Italia vinse lo scudetto del 1928 dopo che quello del 27 era stato revocato a causa dello scandalo alemandi il nazionale collezionò 47 presenze partecipò a tre olimpiadi conquistando il bronzo ad Amsterdam nel 28 e soprattutto contribuì da par suo alla conquista della Coppa Internazionale edizione 27-30 con il favoloso epilogo di Budapest chiuso in nazionale nel 1930 dopo aver realizzato 25 reti considerando che allora non c'erano le difese a zona e gli azzurri non giocavano così tante partite realizzare 25 gol in 47 partite è stato qualcosa di leggendario come del resto tutta la carriera di questo centravanti arretrato dai piedi buonissimi ma anche dalla visione di gioco sopraffina due anni dopo terminò anche la carriera in Maglia Granata per curiosità giocò un incontro nel campionato di guerra 1943-44 all'età di 46 anni con l'Alessandria causa il forfè di alcuni giocatori di cui era l'allenatore per concludere bisogna assolutamente annoverare anche la sua carriera da allenatore in particolar modo nel settore giovanile del Torino dove i suoi giovani ragazzi vennero soprannominati i Balloon Boys che dal 1928 iniziò a produrre campioni in serie diventando una scuola di vita oltre che di tecnica e ponendo le basi calcistiche per la nascita di quello che sarà in futuro il grande Torino insomma Adolfo Balonceri è stata una leggenda italiana ad oggi ingiustamente poco ricordata che merita assolutamente di essere iscritto nell'albo d'oro degli immortali del calcio insomma Adolfo Balonceri è stata una leggenda italiana